Uno dei quattro elementi chiave dell'esistenza. Linfa vitale indispensabile, non solo per gli esseri umani, ma per tutti gli esseri viventi. L'acqua. Oggi è possibile consumare l'acqua nella sua forma naturale e pulita, così importante per la nostra vita. L'acqua, che utilizziamo nel quotidiano, contiene molti elementi estranei. Inoltre, sia nell'acqua potabile che in quella del rubinetto ci sono ioni dispersi. Grazie alla tecnologia di depurazione dell'acqua, sviluppata dagli ingegneri di WaterVital, puoi ridurre i valori di queste sostanze estranee nella tua acqua e riportarla alla forma più simile a quella naturale. WaterVital è una tecnologia per il sostentamento dell'acqua, che funziona secondo il principio della natura, ed è al 100% di produzione turca. I prodotti WaterVital utilizzano il metodo della risonanza molecolare e non necessitano di alcuna fonte di energia. Grazie al fluido intelligente al loro interno e alle vibrazioni che emettono, risuonano senza entrare in contatto con l'acqua da migliorare. In questo modo, la tensione superficiale dell'acqua si riduce del 18%. Gli ioni si raggruppano e l'acqua migliora. I dispositivi WaterVital non utilizzano sostanze chimiche, elementi magnetici o radiazioni. Tutto questo avviene senza che nessun elemento estraneo si mischi all'acqua. Migliorare l'acqua significa Un aumento della quantità di ossigeno Migliorano i batteri utili al suo interno e i batteri nocivi diventano meno resistenti Riduzione di 24 volte dell'effetto di corrosione Prevenzione di possibili calcificazioni e dissoluzione di quelle già esistenti grazie all'impossibilità per il calcare presente nell'acqua di aderire alla superficie. In questo modo, grazie a WaterVital, l'acqua che utilizzi ritorna alla sua struttura naturale e sana. I prodotti WaterVital, ognuno dei quali è garantito per 5 anni, operano secondo 3 diversi principi Tipologia di tubo Tipologia di sommergibile Uso personale Grazie alle sue caratteristiche mutevoli, l'acqua migliorata con i prodotti WaterVital Offre vantaggi in molte aree in cui viene utilizzata Si risparmia il 30-60% di acqua di rigenerazione, sale ed energia nei sistemi di addolcimento Vengono prolungati la riparazione e la manutenzione La sostituzione dei pezzi I periodi di reintegro e di scarico degli impianti di riscaldamento e di raffreddamento Vengono eliminati quasi tutti gli odori di fogna nei sistemi di trattamento dei rifiuti Si ottengono contributi significativi per quanto riguarda la conformità agli standard sui rifiuti Si ottiene un risparmio fino al 50% sui prodotti chimici utilizzati nelle piscine e negli impianti Aumenta l'efficienza del calore e del vapore nelle sale sauna vapore Le condizioni di crescita di alghe e batteri sono più sotto controllo I detersivi e gli ammorbidenti utilizzati per il bucato consentono di risparmiare dal 20% al 60% L'odore nello scarico del bagno si riduce fino al 95% Non si formano macchie d'acqua sulle stoviglie lavate nelle lavastoviglie industriali Si ottiene un risparmio dal 40% al 70% nell'uso di prodotti chimici I cibi e le bevande diventano più sani, gustosi e naturali Gli alimenti vengono cotti in tempi più brevi e rimangono freschi più a lungo Nei prodotti da forno si utilizza il 30% in meno di lievito I prodotti rimangono freschi più a lungo Aumentano la qualità e il gusto della carne Del latte e dei prodotti che ne derivano Piché l'acqua viene migliorata senza l'uso di sostanze chimiche Si evita la formazione di odori e aumenta la durata dei prodotti Con l'utilizzo di WaterVital nei sistemi di irrigazione Aumenta il tasso di dissoluzione dei minerali nel terreno In questo modo viene accelerato lo sviluppo della pianta Si riduce l'uso di fertilizzanti e prodotti chimici Impedisce in larga misura la formazione di biofilm che si verifica nei sistemi di irrigazione L'aumento della qualità dell'acqua induce il bestiame, il bestiame minuto e il pollame a bere più acqua In questo modo gli animali diventano più sani, vivaci e dinamici Aumentano i tassi di natalità e il peso degli animali Sono necessari meno vitamine e antibiotici Come risultato di tutto ciò, WaterVital offre la possibilità di utilizzare un'acqua esagonale migliorata Compatibile con l'equilibrio del nostro corpo Per una vita più sana, pulita e naturale WaterVital Rinfresca la tua acqua Aumentano i tassi di natalità e